Il tuo che hai fatto all'occhio? Spaccavo le pietre in una cava. E' una scheggia. E da quel giorno il suo occhio è diventato tutto bianco. E ha iniziato ad avere superpoteri. Dai, veloci, dai! Veloci, l'avete capito o no? E questo che cazzo è? È quello nuovo. Vi devi spiegare meglio come fanno le cose qui. Papà ti fa una promessa? La mamma non se ne è andata via per sempre. Te la riporto? Tu sei un toro. Ti fa sempre male quando non ci sono io. Eh? Telefonanotte che ne è andata via per sempre. Papa! 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 Grazie a tutti.